La politica dei piccoli passi continua a tenere a galla il Sant'Arcangelo nel campionato di Serie C, anche se la sfida di Fano ha lasciato ancora una volta un po' di amaro in bocca ai Clementini. Sì perché era stata proprio la truppa di Giuseppe Angelini a sbloccare il match con la gran sassata di Dallabona, che non lasciava scampo al portiere Miori, al decimo. Padroni di casa che non ci stanno emettono in campo una reazione vehemente, culminata al 36esimo con il destro secco di Fioretti, che Bastianoni non trattiene. Arriva Germinale, che insacca l'uno pari. Nella ripresa è ancora Germinale a sfiorare il sorpasso con un gran destro in corsa, prima della spettacolare rovesciata in out di Varano. Finisce così 1-1 tra Fano e Sant'Arcangelo. In questo momento manca solo il risultato. Le ultime tre partite sono state giocate benissimo. Sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista dell'atteggiamento, del gioco, di tutto. Solo che abbiamo buttato via 2-4-6 punti, purtroppo. Però il campionato è ancora lungo. Ripeto, abbiamo bisogno di sbloccarci. No, no, no. No, no. No.